E' fondamentale, un'altra tappa, un momento difficile, noi stiamo lavorando sodo come squadra per garantire sempre maggiori servizi ai nostri concittadini. Ottenere in questo momento di crisi finanziamenti importanti per un'opera strategica tra le più importanti d'Italia, segno che questa città è credibile, che ci mette in campo tanta energia e tanta competenza. Assolutamente sì, è un viaggio molto importante, preparato molto bene, meticoloso, dettagliato con il sindaco, le università, con tante istituzioni per rinsaldare e consolidare i rapporti tra due città che sono tra le più famose, complicati e straordinarie del mondo, che sono Napoli e New York.